Talento da vendere, umiltà e una maturità che va ben oltre quei suoi 18 anni. Vi facciamo conoscere Dario Schirone, uno dei ballerini che più si è fatto notare ad Amici 21, semifinalista nella fortunatissima trasmissione Mediaset di Maria De Filippi, ma sicuramente vincitore nel cuore della gente. Ha gli occhi blu e quel carisma tipico delle star, e in effetti il successo non ha tardato ad arrivare. Non tutti sanno che è nato e cresciuto a Lizzano, in provincia di Taranto. Siamo arrivati davanti a casa sua, proviamo a citofonare, vediamo se ci rispondono. Siamo i primi ad intervistarlo in Puglia, ci accoglie come amici, con un buon caffè. Quando si viene fuori da un programma così importante, sembra che tutto sia partito da lì, ma in realtà Dario ha cominciato molto prima, circa sei anni, è vero? Ho iniziato cantando io in casa, ho conosciuto Michael Jackson per caso, sono diventato un fissato di lui. Quindi papà mi ha comprato un po' di cd con i suoi videoclip, tutto quanto, ho iniziato a ballare per lui e pian piano siamo finiti in una scuola di danza. Ci sono due momenti importanti che tu ricordi all'interno di quel contenitore così bello, uno più professionale legato al momento importante che è il serale, l'altro più sentimentale. Ah, sì. La scuola, per quanto riguarda la scuola, è stata la presa della maglia del serale, perché non me l'aspettavo, sincero, soprattutto così velocemente. Invece l'altro è legato a Sissi, siamo stati nel letto insieme e mi ha detto che voleva stare con me, però in un modo diverso, era forte. Hai ribadito in più occasioni l'importanza della vicinanza della tua famiglia, mamma, papà e tuo fratello. È facile crederci quando si è già arrivati, meno quando bisogna scommettere, bisogna fare anche dei sacrifici. Non devi avere qualcuno con te che ti dà una mano, per forza, perché se non arrivi da nessuna parte. Capisci che passione è vero quando il piacere di farlo e il sacrificio però per farlo si bilanciano completamente. Che cosa immagini per il tuo futuro? Spero di continuare a fare il ballerino, cioè la cosa di cui voglio vivere, la cosa di cui voglio campare. Quanto è importante lanciarsi e crederci anche quando forse sembra folle? Sgomitavo, ti giuro, a otto anni, sgomitavo con tutti gli altri ragazzi, andavo davanti per farmi vedere da chi mi stava insegnando e ballavo come una satanato. È importante perché la vita è una, è importante perché se non ci credi tu non ci crede nessun altro.